ciao ragazzi un grosso saluto da parte mia luca di leonardo dallo staff di tutto fantacalcio punto it nuovo video riguardante il passaggio alla roma di matic centrocampista che ha visto scadere il suo contratto al macchese di un'altra scadrà il 30 di giugno quindi dal primo luglio sicuramente sarà ufficiale ed è un giocatore che conosciamo a livello calcistico fortemente voluto da murigno è un classe 88 quindi 33 anni di piede sinistro è un centrocampista centrale che ha giocato è stato giocatore di murigno sia al celsi nel 2014 2015 sia al manchester united nel 2017 2018 quindi ha avuto sicuramente delle garanzie da parte di murigno quindi non abbiamo dubbi riguardo alla sua titolarità bisognerà capire ovviamente qual è la sua integrità fisica è un giocatore che di caratteristica è bravo nel fare i passaggi lunghi quindi nelle verticalizzazioni a far girare la palla è bravo nei contrasti aerei ma a livello fantacalcistico è un giocatore che non porta bonus in questa stagione 4 assist 3 ammunizioni in 23 presenze 0 gol è un giocatore che di media negli anni anche gli anni in cui era al benfica comunque che sono stati gli anni probabilmente migliori è un giocatore che non ha mai portato più di tre gol a stagione quindi a livello fantacalcistico sicuramente perde un po di appetibilità rispetto al valore calcistico è un giocatore che si può prendere come alternativa ai vostri titolari a centrocampo un titolare che può essere schierato in determinate partite al mantra magari ha un po più di appetibilità perché dovrebbe essere il listato man m quindi il listato m è un giocatore che magari non porta bonus ma può portare insufficienza chiaramente è un giocatore che non dovete strappagare in sede d'asta e va preso se può essere un affare perché ripeto a livello statistico non è un giocatore da fantacalcio se vi è piaciuto questo video ragazzi vi invito a lasciare un like a questo video a scriverci qua sotto nei commenti qual è il vostro giudizio riguardo al passaggio di matic alla roma e chiaramente iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto cliccate sulla campanellina per essere sempre avvisati riguardo i nostri nuovi video video che riguardano appunto la presentazione e la preparazione all'asta del 2022 2023 un grosso saluto da parte mia a luca di leonardo e dallo staff di tutto fantacalcio punto it è tutto appuntamento al prossimo video ciao